Ciao a tutti, bentornati in un nuovissimo video. Oggi vi porto un piccolo haul di Decathlon. E iniziamo! E come primo acquisto, questo tappetino yoga Light Club Blue. E' un tappetino leggero e velutato al tatto. E potrai portarlo a tutte le tue lezioni di yoga. La morbidezza di questo tappetino ti invita a essere regolabile nella pratica. E' super leggero per accompagnarti da casa alla palestra. Vi faccio vedere una cosa. Come vedete, le stampe che trovate qui aiutano ad avere una postura migliore. Tutti gli acquisti che ho fatto vi lascerò nella casella di informazione. E ora passiamo ad un altro acquisto. In questo acquisto abbiamo queste bellissime scarpe da corsa. Queste scarpe qua sono super leggeri, hanno un colore rosa-nero e i suoi leceti sono azzurri. Sono molto confortevoli e molto flessibili. Hanno come caratteristiche comfort, flessibilità, tenuta, ammortizzamento e aderenza. Sia in terreni semplici che in strada. Un altro acquisto che ho fatto ad Ecatron sono questi leggings qua, color blu e rosa della Adidas. Questo prodotto qua è stato ideato per il fitness e per la dinastica dolce. Sono molto confortevoli e morbidi. E l'ultimo acquisto sono queste calze qua, che l'avevo già acquistato in precedenza. Avevo un video di How the Decatro. Ve lo lascio qua sopra se non lo avete visto. Molto confortevoli e elastiche. Davvero molto molto economiche. Siamo arrivati alla fine di questo video e spero che il video vi sia piaciuto. Grazie di essere state qui con me e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!